Fino a poco tempo fa lo sport italiano era governato sotto un unico ente esponenziale di diritto pubblico, che è il CONI. Con una legge recentissima del 2017 si riforma tutto, prevedendo dal CONI lo scorporo del Comitato Italiano Paralimpico. Quindi, così come il CONI da oggi gestisce solamente lo sport dei normodotati, da esso esce e si crea un altro pilastro dello sport. Quello per gli atleti paralimpici, quindi quelli per gli atleti con handicap fisici, che diventa autonomo. Quindi l'interesse di creare un sistema autonomo che quindi gestisce lo sport paralimpico. uscendo dal CONI, uscendo dal CONI e quindi creando una struttura parallela a quella del CONI. La legge prevede in particolare una struttura assai simile a quella del CONI, e quindi il Presidente del CONI corrisponde al Presidente del Comitato Paralimpico Italiano. Una giunta, un Consiglio nazionale, all'interno del quale sono rappresentate le federazioni sportive paralimpiche che nasceranno. e le discipline sportive paralimpiche, quindi una struttura parallela a quella del CONI. Struttura che ha una natura di ente pubblico, quindi come fa il CONI? Quindi con natura pubblicistica pubblica, quindi dei regolamenti che emana, del personale che ha delle strutture, anche il Comitato Paralimpico diventa un ente pubblico. E tutto questo quindi dandogli un'autonomia, sia giuridica, sia economica, perché comunque per le attività strumentali è legata da un contratto di servizio con il CONI servizi, ma non dipende più dal CONI, ma dipende direttamente dal Ministero, così come il CONI, e questo la dice lunga, sull'interesse che lo sport paralimpico ha da parte delle attuali strutture che disciplinano lo sport in Italia. Grazie.